Uno spazio dedicato alla musica e all'arte che vuole essere un luogo di condivisione creativa aperto a grandi e piccoli. L'Orfeo Spessa di Lecce è tornato a vivere dopo la pandemia e sta accogliendo persone di tutte le età che hanno voglia di avvicinarsi alla musica. Inoltre ha ospitato la rassegna Ricostruiamo che dopo quattro mesi si è conclusa con successo e ha visto l'esibizione di eccellenze del panorama musicale e teatrale che hanno accolto con entusiasmo l'invito a calcare questo palcoscenico oltre che di giovanissimi promettenti talenti. Abbiamo bisogno di questi punti di incontro, l'incontro deve tornare ad essere reale, non deve passare solo ed esclusivamente attraverso il social di turno. C'è bisogno di incontrarsi, c'è bisogno di salire sul palco, di sbagliare, di emozionarsi per ritornare ad essere un po' più persone di prima. Siamo riusciti a portare in scena una stagione di sette appuntamenti in cui i ragazzi hanno lavorato sul palco con i professionisti e questa è la soddisfazione più grande. Questo è solo l'inizio, si andrà ad altre edizioni ma ci si aprirà anche poi al territorio perché la nostra sala ha solo 100 posti ma la nostra volontà è quella di ritornare a riempire grandi teatri. Ti piace questo spazio? Ovviamente, c'è il posto più bello che ho mai visto. Che emozione ti dà suonare la chitarra? Suonare la chitarra mi dà un'emozione di felicità, mi fa immaginare cose che non immaginerei mai.